Per la serie il futuro è adesso, Garfagnana Football Channel non si ferma neanche nel periodo posquale e qui al Nardini di Castelnuovo Garfagnana, commenterò la finale, primo e secondo posto del Memorial Mauro Marchini finale tra Castelnuovo Garfagnana Under 17 contro Lucchese 1905 Under 16 Partiamo dalla squadra di Ricciarelli con in porta Marchini, poi Corrieri, Comparini, Beccelli, Micchi, Venoni, Biaggiotti, Carbone, Oguntinde, Tognini, Rossin, Parchina, Tognocchi, Angelini, Brogi, Giambelli, Borghesi, Martinovic, Giannotti e Benussi Per la Lucchese invece i primi 11 sono questi in porta Gentosi, poi Lorenzoni, Bilardo, Biaggiotti, Scaglione, Miglianti, Turini Poi con il numero 8 Doan La, poi Roseni, Mastacchi, Cortopassi, Pachina, Remedioti, Colombini, Bracci, Pardini, Piccanti, Regali, Stianti, Mannini, Mister, Matteo, Bonatti Ecco le squadre che entrano in campo, l'arbitro e il signor Rossi, ricordiamo Castelnuovo Under 17 contro Lucchese, Under 16, finale, memoria al mano Marchini Inizia ora Castelnuovo contro Lucchese Posizione di fuorigioco per Oguntinde, unico attaccante Che avrà un lavoro di pressione sul portatore di Parama, Biaggiotti, sfrutta un buco Allora palla interessante, cercare Cortopassi che se la lunga Cortopassi in aria Cortopassi, tiro! Grande azione e gran gol Di Cortopassi Il numero 11 Ancora Mastacchi a gestire Doan La allarga per Turini Sempre Turini Prova a gestire, bella giocata Turini avanza, ancora Turini Dentro per Roseni Qualche modo il Castelnuovo si salva Bella giocata di Biaggiotti Allora limite Biaggiotti Finta, tiro! Gran gol Del numero 4 Biaggiotti Gestire ancora Il Castelnuovo Allarga, attenzione Stianti di prima Cercare Mannini Mannini ancora a gestirla Per Dualla Attenzione la palla rimane in aria Non c'è nulla per l'abito Che grazie a Vanoni Attenzione Ancora palla di Picchianti Picchianti La gestisce per Stianti Mannini dalla distanza Marchini, attenzione Dualla Segna Il 3 a 0 Al minuto 15 Del secondo tempo Attenzione Avanza il numero 18 Tiro! Gran gol Gran gol di Stianti Al minuto 23 4 a 0 Cross dentro Basso, attenzione Liscio Tutti liscio Tiro! Gol! Di Scaglione 5 a 0 Punizione Minuto 39 Di seconda Il tiro del numero 16 Bel gol Bel gol Di Picchianti 6 a 0 Attenzione Buona gestione Del Castelnuovo Che prova a entrare in aria Attenzione Tiro fuori E finisce 6 a 0 La Lucchese Inizia il Memorial Agenda 7. Fastenimus 28 Oko 22 5 a 0 22 29 O 100 30 оф inflation 3 21 31 21 25 59 80